Due grandi eventi tra il 7 e l'8 luglio a Pescara, la notte dei saldi e poi Pescara Comic Convention, assessore un appuntamento da non perdere. Assolutamente, il fumetto è a pieno titolo un linguaggio culturale grande, robusto, maturo, importante. E Pescara ha moltissimo il fumetto in tutte le sue declinazioni. Abbiamo mostrato con Andrea Pazienza, un personaggio importante della cultura di questo paese, che ha avuto un'esperienza di vita eccetera a Pescara. Abbiamo una via, un festival, lui dedicati e l'appuntamento principe sul tema del fumetto è questa Pescara Comic Convention. L'anno scorso l'abbiamo inaugurata con grandissimo successo perché tante persone sono appassionate, seguono il fumetto, fanno fumetto e tutto quel mondo è connesso al fumetto. Quindi il cosplay, il manga, insomma un mondo che appassiona moltissimo, specie i giovani cittadini di questa città e vogliamo tornare a fare un bel viaggio in questo mondo anche quest'anno. E' uno degli appuntamenti più attesi dell'estate pescarese, la notte dei saldi, Assessore Cuzzi, un appuntamento che già lo scorso anno aveva riscosso un grande successo. Sì, un evento importante concordato con le associazioni di categorie dei commercianti in occasione dell'avvio dei saldi nella nostra città. Avremo varie postazioni musicali, animeremo tutto quello che è il centro commerciale naturale. Ci auguriamo che tantissime persone sceglieranno per scara per venire a fare i primi acquisti in occasione dei saldi e sicuramente per godere anche dei tanti eventi che abbiamo programmato a partire dalle 19 in poi. Importante dire che ci sarà la gratuità anche del parcheggio dell'area di risulta a partire dalle 18 e quindi sarà una grande festa e poi continueremo con la notte bianca dell'Adriatico e anche altre iniziative dedicate prettamente al commercio. Continuate a puntare fortemente sul centro commerciale naturale? Sì, sicuramente. È un progetto importante. Abbiamo stanziato 100.000 euro ad oggi con degli interventi che riguardano la segnaletica, la carteglonistica, il marketing, il sito internet, un'app dedicata agli utenti, fruitori del centro commerciale naturale ma anche ai commercianti per inserire delle offerte commerciali e quindi continueremo su questo passo anche attraverso la promozione e gli eventi che sono un elemento fondamentale per far arrivare tantissime persone in città. Grazie. Grazie.